Bene, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, iniziamo subito entrando nel vivo della differenza principale, una perlomeno delle differenze principali che c'è fra un linguaggio di programmazione ad alto livello come il CI e un linguaggio di programmazione assembly. In assembly abbiamo visto come riservare spazio in memoria per le variabili, inizializzate o non inizializzate, con le parole RES e D. Qui in CI e nei linguaggi di programmazione più avanzati si fa la stessa cosa, ma si va a riservare spazio in memoria per ospitare dei dati a un certo indirizzo della RAM. Ma questo indirizzo innanzitutto, vabbè, questa è una piccola differenza, invece che rappresentato da un'etichetta, viene rappresentato da un identificatore che sarà proprio il nome della variabile. Il nome della variabile è in C, in C++ e in tutti gli altri linguaggi di cui abbiamo parlato ieri, avanti ieri, l'equivalente dell'etichetta che abbiamo visto in assembly. La differenza fondamentale però è che in assembly non si può associare a quell'area di memoria che è stata riservata per un certo dato un particolare tipo. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che per venire incontro all'esigenza del programmatore, per potergli consentire di poter semplificare di molto la gestione dei dati, variabili o costanti che siano, questi dati vengono salvati in memoria definendo il tipo di dato che sarà salvato in quelle celle di memoria. Il tipo di dato vuol dire sostanzialmente che valori ci potranno andare dentro, cioè il range dei valori, soprattutto però quei valori in che maniera dovranno essere interpretati dal programma e anche che tipi di operazioni sarà possibile fare con quei valori considerando che saranno interpretati in un modo piuttosto che un altro. Che cosa significa interpretarli? Abbiamo visto nelle prime lezioni che i byte 0 e 1 contengono, però un byte potrebbe essere interpretato come un carattere e in tal caso rappresenterebbe il codice ASCII di un carattere. Potrebbe essere uno dei 4 byte che rappresentano un intero e allora contribuirà insieme agli altri 3 a rappresentare un intero in complemento a 2. Potrebbe essere un numero con la virgola e in tal caso, secondo lo standard, i3 poli 754 rappresenterà un... Insomma, quegli 0 e 1 possono essere interpretati in un modo piuttosto che in un altro a seconda del tipo di dato che contengono, che rappresentano. Quindi, quando si mette un valore in memoria o lo si va a leggere, si deve specificare non solo l'indirizzo a cui andrà collocato, ma anche che tipo di dato conterrà dentro, cioè come dovranno essere interpretati quegli 0 e quegli 1. In C ci sono, e anche in C++, ci sono alcuni tipi di dato che sono già presenti nel linguaggio e vengono detti tipi di dato semplici o predefiniti. E sono char, i più importanti sono char, int, unsigned, long, dove sta? Eflot. Questi sono i più importanti. In C++ ce ne sono altri, che dopo vedremo, di predefiniti. Questi sono quelli predefiniti che sono già incorporati nel linguaggio. Poi il programmatore, come vedremo nelle settimane successive, può definire anche dei suoi tipi di dato, per sua comodità. Ovviamente dobbiamo cominciare da quelli predefiniti che sono più importanti, ovviamente, di tutti. Il più importante, credo che sia forse int, perché la maggior parte dei dati numerici vengono rappresentati come interi. Unsigned int sarebbe il numero naturale, cioè l'intero senza segno. Li abbiamo già conosciuti nelle prime settimane di lezione, adesso vediamo come vengono nominati dal C. Il flot sarebbe il numero interpretato su 4 byte, con lo standard che menzionavo prima, l'IEEE 754. Lì vedete quelle che sono le normali dimensioni in byte di questi tipi di dato, nei nostri computer. E ho riportato nella tabella anche il range di valori che sono ammissibili. Notate che l'int è appunto su 4 byte tipicamente, e quindi può andare da meno 2 giga a più 2 giga meno 1, perché in mezzo c'è lo 0. Per quanto riguarda lo short, questo short sta per short int, ed è su 2 byte, e quindi potrà rappresentare 65.000, come dicevamo l'altra volta, 536 valori, e quindi da meno 32.768. Il char, dopo l'int, forse anche prima dell'int, insieme all'int è il più importante di tutti, è su un byte solo. E tradizionalmente rappresenta un codice ASCII, però tenete presente che il codice ASCII era su 7 bit, e tuttora lo è, e quindi si intende, se è un ASCII, che il primo bit sia 0. Però, insomma, anche questo è un byte, e quindi, a voler essere grezzi, possiamo interpretare il byte semplicemente come un numero naturale che va da 0 a 255. No, l'ansign ed int è pure su 4 byte. Ah, ho sbagliato, chiedo scusa, grazie, grazie, non mi ero accorto di questo errore, ho messo il limite da 0 a 65.000, come se fosse su 2 byte, invece va, ah, è quello sotto, e ho sbagliato, quello sotto sarebbe il range dell'ansign ed int, quello che ho messo sul long. E quello che sta sull'ansign ed int, non c'è più. Perché questa, ho rieditato una tabella di 20 anni fa, non so se avete capito, perché è 20 anni che stiamo insegnando queste cose, e negli anni i range sono cambiati, grazie, mi ha fatto notare adesso che l'ho corretta in maniera sbagliata. Comunque, penso che sono cose facili da capire. Una cosa che non è facile da capire, guardando questa tabella, è il float che va da meno, perché il float è anche negativo, fra l'altro qui c'è solo il range considerato i positivi, da 3.4 per 10 alla meno 38, a 3.4 per 10 alla 38. Dunque, è evidente che qua c'è qualcosa che non quadra, perché non è possibile poter rappresentare tanti numeri su 4 byte, perché se è un intero su 4 byte, possiamo rappresentare, se è un unsigned su 4 byte, andiamo da 0 a 4 giga, questa la devo cambiare. Non è chiaro come mai con un float si possa rappresentare addirittura fino alla 10 alla 38 numeri. E' qualcosa di magico? Com'è possibile? Che dite voi? Questo è un punto cruciale, che chiaramente noi ci soffermiamo perché siamo ingegneri e non siamo banali programmatori. Dobbiamo capire il senso delle cose. Non sono? Non sono tutti. Non sono tutti. Cioè, ci sono tantissimi, infiniti numeri, perché chiaramente quello dovrebbe rappresentare i numeri reali, e quindi i numeri reali sono infiniti, ogni intervallino, sapete. Ma il fatto è che anche gli interi non ci stanno lì dentro. Tantissimi interi non ci stanno dentro i float. Ci sarà un float, un numero con la virgola, molto vicino a quell'intero. Ma manco tanto, dipende. Dovete ragionare su queste cose, ecco, perché quando svilupperete le applicazioni in C o in quello che volete, avrete questi limiti e dovrete in qualche maniera tenerli presente. Bene. Cominciamo un attimino a vedere nel nostro compilatore C. Il nostro compilatore C ha un file che si chiama limits, che probabilmente sta dentro una cartella che si chiama include, che se stiamo sotto Unix, Linux, starà sotto una cartella OSR. Se non sta lì, usate Windows, andatelo a trovare. E questo file limits, è un file di testo, che dentro c'ha, io qui ho preso solo una piccola porzione di questo file, c'ha dentro definiti quelli che sono i limiti che abbiamo visto sopra, i tipi di dato fondamentali del C. Per esempio, qui, questa porzione che ho messo su questa slide, si legge? Più o meno, eh? Allora, in questa porzione, per esempio, che c'è cascato, c'è l'intmin e l'intmax. Che cosa sono? Sono due costanti, definite dentro questo file, con la direttiva define, e che rappresentano, intmax rappresenta 2 giga, meno 1, cioè 2 miliardi, 147 milioni, 483 mila, 647. Intmin sarebbe meno intmax, meno 1. Allora, che cosa sono intmin e intmax? Sono il range che abbiamo visto prima, questo qui, per l'intero, messi dentro, cioè i valori minimo negativo e il valore massimo positivo, messi dentro una costante, espressa come una sequenza di caratteri asci. A che cosa serve? Servono tutte quelle costanti per poter consentire al nostro software di non sforare i limiti stabiliti dal compilatore che state utilizzando. Per esempio, se voi volete dare una certa variabile, poi diciamo, vediamo dopo come fare, un valore che è il massimo valore di intero ammissibile, grazie a questo file, voi farete così, non scriverete intx uguale 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7, ma scriverete intx uguale intmax. Scrivendo intmax, a parte che non avete meno rischi di sbagliarvi, ma intmax a quel punto è indipendente dal compilatore, dalla macchina, perché se fate girare il vostro programma su un altro compilatore, su un'altra macchina che avrà un altro limite, per esempio interpretasse gli interi su 2 byte invece che su 4 o su 8, hai visto mai? Correttamente la macchina, il vostro programma, andrà a dare il vero massimo previsto per quella macchina. Mentre se invece voi date il valore secco, 2 miliardi, 147 milioni, eccetera, e su una macchina, la maggioranza delle macchine, girerà, ma magari se lo portate su una piattaforma embedded con un alasberry potrebbe non girare il vostro codice. Mentre se voi invece mettete quelle costanti lì come riferimenti, il vostro programma non dovrebbe avere problemi. Qui c'è un programmino che avete sulla slide che potete testare e l'ho fatto appunto per visualizzare sostanzialmente questo programmino che cosa fa? Manda in stampa delle istruzioni e scrive il minimo short qual è e poi gli dico di mandare in stampa il valore della costante short min. Per far questo ho dovuto includere nelle librerie il file limits. il risultato è che lui mi scrive minimo short quello che ho detto io uguale e poi mi dà il valore associato dal file limits alla costante short min. Così che io li vedo tutti e mi rendo conto di quelli che sono i range ammessi per quei valori tipi di dato fondamentali dal mio computer. Stiamo parlando dei tipi di dato fondamentali quelli che sono incorporati dentro il compilatore. Non so se sono stato chiaro. Allora cominciamo un po' a lavorare. Innanzitutto le variabili in C che cosa sono? Lo sapete già? Sono sostanzialmente zone della memoria che sono destinati ad ospitare un valore che poi il nostro programma cambierà. Sarà un valore per esempio letto dall'input che viene depositato lì che poi verrà modificato. Allora le variabili in C++ si possono definire o dichiarare. La definizione funziona così. In un pezzo di codice a un certo punto nel vostro programma dovrete scrivere prima il tipo della variabile e poi il nome che avrete dato alla variabile punto e virgola. Se avete più variabili dello stesso tipo le potete scrivere tutte nella stessa riga. Per esempio scrivere int numero di giorni che cosa punto e virgola cosa significa? Significa che io ho definito una variabile di tipo intero inter sta per integer all'indirizzo numero di giorni. Questo adesso non lo dirò più all'indirizzo numero di giorni dirò che quella variabile si chiama numero di giorni. Il nome di una variabile è l'indirizzo sarà quando tutto sarà compilato e linkato sarà l'indirizzo della RAM considerato in offset dove sarà stata depositata quella variabile sulla RAM. Di quanti byte sarà fatta questa variabile? Di 4 byte molto probabilmente. E quindi il numero di giorni è l'indirizzo di quale di questi 4? Del primo. Quando che poi dopo il programma andrà a leggere quella variabile siccome sa che è di tipo int sono 4 i byte la leggerà andando a prendere il primo quello all'indirizzo numero di giorni poi prenderà quello numero di giorni più 1 numero di giorni più 2 numero di giorni più 3 la presi tutti e 4 e che cosa farà? Interpreterà quei 4 byte quei 32 bit come contenenti un numero rappresentato in complemento a 2 come mai? Perché io ho detto che a quell'indirizzo della RAM numero di giorni c'è un int compilatore a questo punto lo sa e ogni volta che dovrà compilare un'istruzione che c'è a che fare con quell'inte lo scrive lo legge lo scriverà o lo leggerà interpretandolo come un numero in complemento a 2 se invece scrivo char letterina faccio sostanzialmente la stessa cosa dico che all'indirizzo letterina c'è un char cioè c'è un byte solo perché char è predefinito essere di un byte e quindi letterina è l'indirizzo solo di quel byte lì e si intende che quando dovrà essere letta o scritta quella quella cella di memoria dovrà essere letta e scritta interpretando il contenuto come se fosse come se è un un asci ultimamente i compilatori ammettono l'isot 8, 8, 5, 9 1 il vostro quasi sicuramente farà così e quindi potete mettere anche delle vocali accentate quasi sicuramente verificatelo poi faremo un programma per verificarlo eventualmente quando faremo i cicli while lo faremo se io scrivo float tasso variabile sto facendo la stessa cosa solo che quei 4 byte perché float su 4 sono la rappresentazione in virgola mobile ai trapoli di 7, 5, 4 di un numero dove vengono definite le variabili in un programma allora lo dico poi dopo ci ritorno facendo un esempio finiamo la lezione facendo un paio di esempi se scrivete int numero di giorni prima del int main nel codice sorgente si intende che quella è una variabile numero di giorni globale e quindi starà nel segmento dati dell'applicazione ed effettivamente globale significa che potrà essere utilizzata da altri moduli di programma scritti in altri file che venissero linkati insieme a questo questo significa globale che può essere usata anche da altri moduli di programma che stanno su altri file che poi vengono linkati insieme a questo come abbiamo visto la settimana scorsa con il programma in assembly dove abbiamo linkato tre codici oggetto se invece int numero di giorni lo scrivete dopo int main cioè dentro il main vuol dire che è una variabile locale al main il main come vedremo quando parleremo delle funzioni è esso stesso una funzione la differenza fondamentale è che quella variabile verrà scritta non nel segmento dati ma nel segmento stack e inoltre verrà scritta solo quando quella funzione parte nel caso del main parte subito per cui viene scritta subito quando le settimane successive vedremo anche dove è visibile una 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 variabile a qui lo posso anticipare ma ci ritorneremo su questo concetto se voi scrivete int i all'interno di una coppia di parentesi quadra graffe vuol dire che l'avete definita dentro un blocco per esempio qui ci potrebbe stare int main davanti e avete definito la variabile dentro il main dentro il blocco del main questo significa che quella variabile è visibile dal momento in cui è definita in tutte le righe di codice sottostante fino alla parentesi graffa fuori dalla parentesi graffa non sarebbe più visibile non sarebbe più utilizzabile cioè i non sarebbe più utilizzabile come indirizzo di quella variabile una variabile definì è è visibile solo nel blocco di istruzioni in cui è definita dove blocco di istruzioni vuol dire un insieme di istruzioni una sequenza di istruzioni compresa fra dentro una coppia di parentesi graffe inoltre una variabile è visibile solo dal momento in cui è definita in poi prima non sarebbe possibile utilizzarla non posso utilizzare una variabile prima di averla definita nella sequenza di istruzioni che c'è nel programma queste sono abbiamo parlato di come si definisce una variabile ma una variabile si può anche dichiarare la dichiarazione di una variabile è come la definizione solo che è preceduta dalla parola chiave extern extern serve a dire al compilatore che quel codice che segue userà quella variabile senza però averla definita si intende che la variabile sarà definita da un altro modulo con cui il mio che sto scrivendo sarà linkato assieme cioè io posso utilizzare una variabile nel mio programma che è definita in un altro programma che sarà collegato insieme al mio è appunto perché se tutti quanti collaboriamo a fare un'applicazione ognuno scrive il suo modulo su un file se voi volete usare la mia variabile la userete nel vostro codice io gli ho dato il nome l'ho chiamata giorni della settimana voi la utilizzerete giorni della settimana nel vostro modulo ma se non ci mettete extern int giorni della settimana il compilatore si arrabbia quando va a compilare il vostro modulo perché non sa che cosa sia i in questo caso o quello che avete utilizzato come nome per poter consentire al compilatore di compilare un modulo in cui si usa una variabile che non è stata definita in quel modulo bisogna che premettete a ogni istruzione che utilizzi quella variabile la dichiarazione extern int i int i i è una variabile tipo intero esterna al mio programma e cioè è stata definita altrove chiaro che se il compilatore quando va a linkare non trova nessun modulo in cui i sia stata definita ti dà errore allora se tu non scrivi extern ti dà errore perché non la trova nel tuo programma se tu scrivi extern int i lui quando compila il tuo modulo gli vabbè aspetta va a compilare gli altri quando li avessi compilati tutti e non avesse trovato nessun modulo che definisce int i darebbe errore su questo ci ritorneremo quando faremo verso la fine del corso proprio vedremo come si scrive un programma su più file e parleremo delle librerie allora la domanda è perché se ho definito un altro modulo c'è bisogno di ripetere perché il compilatore compila modulo per modulo tu stai scrivendo un modulo cioè stiamo collaborando tu stai scrivendo un modulo io non sto scrivendo un altro tu stai scrivendo su un file asci io su un altro tu mi dai il tuo file e io a questo punto vado a compilare faccio partire il compilatore quando che il compilatore sta a compilare il tuo modulo non trova per esempio tu scrivi i uguale 4 e poi vedremo insomma fra un attimo l'assegnamento vorrebbe dire andare a scrivere il valore 4 all'indirizzo i però il compilatore dice ma io non lo so cos'è i perché dentro il tuo modulo cioè dentro il tuo file non ce l'hai scritto che cos'è i né tantomeno che un intero non l'hai definito sta definito dentro il mio int i io ho scritto int i nel mio file nel tuo non c'è allora il compilatore non gli va bene perché quando che incontra l'istruzione int i i uguale 4 non sa che cos'è i non sa che è un intero non sa niente se tu invece premetti all'inizio del tuo file extern int i stai dicendo al compilatore compilatore stai tranquillo i è un intero non lo trovi definito in questo file perché l'ha definito quell'altro vai oltre fai quel che devi fare compilala come la devi compilare stai tranquillo che c'è un altro un altro modulo dell'applicativo che definirà quella variabile e gli darai quindi a quel punto un indirizzo in memoria corretto serve per non far segnalare errore al compilatore quella dichiarazione lì externa non so se mi sono spiegato è un'anticipazione questa che state vedendo perché adesso per varie settimane non lo useremo mai externa verso la fine del corso vi farò vedere come si può ripeto programmare su più file un applicativo va bene e questa è l'istruzione più importante di tutte nella programmazione l'istruzione di assegnamento purtroppo come ho anticipato un po' di settimane fa in C è scritta con il simbolo che in matematica significa uguale e tant'è che come avete capito anche io mi sbaglio lo chiamo uguale ma non è uguale non c'è niente a che vedere dovreste leggerlo come un diventa in Pascal questo simbolo era due punti uguale si leggeva e diventa e viene utilizzato in questa maniera questo simbolo a sinistra deve avere il nome di una variabile a destra deve avere una espressione che restituisce un certo valore questo valore dovrà essere scritto dentro quella variabile in pratica questo qui questo simbolo che cosa fa? prima c'è l'istruzione che contiene questo simbolo cosa fa? prima valuta l'espressione a destra ne calcola il risultato il risultato sarà un valore quel valore viene scritto con una move perché questa espressione probabilmente metterà tutto quanto su un registro EAX e dopodiché con la move quel valore verrà scritto nella ram all'indirizzo scritto qui all'indirizzo rappresentato dal nome della variabile allora che cosa succede? che nella programmazione si parla di right value e di left value il right value il right value è quello che è scritto dentro il byte il left value è l'indirizzo di quel byte valore sinistro valore destro perché sinistro e destro? perché stanno rispettivamente a sinistra e a destra del simbolo uguale all'interno di un'istruzione di assegnamento a sinistra ci deve stare un indirizzo a destra un valore non potete invertirli se li invertite compilatore dà errore quindi dovete interpretare l'istruzione sempre in questa maniera la variabile tal dei tali diventa cioè assume il valore che c'è scritto a destra del simbolo di uguale per esempio temperatura uguale 75.45 si intende che temperatura è una variabile di che tipo? molto probabilmente float se fosse intero dopo vediamo dentro quella variabile ci andrà scritto il valore 75.45 oppure conto uguale conto più 5 è un errore questa istruzione di assegnamento? perché no? ecco non è capito che fate come facevano le studentesse della magistrale che avevano fatto analisi che toglievano conto e conto 5 uguale 0 e diceva questo è un errore perché non c'entra niente ovviamente con l'uguale matematico questo è un diventa allora però è una cosa interessante se a destra a destra del simbolo di assegnamento trovate un nome di variabile un nome di variabile è un left value o un right value? allora il nome di una variabile sarebbe un left value e quindi in questo caso conto che sta per un left value sta dalla parte sbagliata del simbolo di uguaglianza lì sta a destra ovviamente non è uno sbaglio è che stando a destra si interpreta conto come un right value e cioè si va a vedere cosa c'è dentro conto non qual è l'indirizzo conto se invece sta a sinistra del simbolo di assegnamento lo si interpreta come indirizzo cioè questo va scritto così all'indirizzo conto si vede il cursore? si vede? all'indirizzo conto vacci a scrivere quello che c'è dentro l'indirizzo conto più 5 quindi in pratica l'effetto quale sarà? è che la variabile conto viene aumentata di 5 è chiaro? io sto andando piano forse vi sto offendendo perché vado piano perché voi queste cose le sapete già voi mi dovete fare così vuol dire e lo so oppure se fate così mi fate capire che devo andando piano capito? datemi dei segnali perché nel frattempo l'informatica si sta insegnando sempre di più nelle scuole superiori per cui ho bisogno di capire se sto andando veloce o se sto andando lento grazie risposta uguale 1 più 4 per 5 non c'ha nessun problema guardate qui i uguale j si può fare? sì per lo stesso motivo di cui abbiamo parlato poco fa a proposito della variabile conto i è un indirizzo e anche j è un indirizzo i sta nel posto giusto j sta nel posto sbagliato ma essendo a destra viene interpretato come il valore che c'è all'indirizzo j quindi l'effetto di questa istruzione è che la variabile i prende lo stesso valore della variabile j allora se abbiamo definito una variabile di tipo int con essa possiamo fare 6 operazioni aritmetiche e 6 operazioni di confronto le operazioni di confronto sono le 6 che conosciamo già uguale diverso maggiore maggiore uguale minore minore uguale qui vedete come vengono scritti in c++ in c gli operatori che implementano queste operazioni di confronto l'uguale in particolare lo scriviamo come un doppio uguale appunto per distinguere questa operazione dall'operazione di assegnamento che abbiamo visto prima il diverso è il ponte esclamativo uguale e gli altri abbastanza intuitivo maggiore uguale minore uguale le precedenze è importante per disambiguare un'espressione aritmetica o di confronto conoscere le precedenze degli operatori lì ho messo in evidenza il fatto che l'uguale e il diverso hanno la procedenza più bassa fra i quei sei operatori di confronto più interessante è quello che possiamo andarci a fare aritmeticamente con una variabile tipo intero possiamo fare la somma la sottrazione cambiargli il segno moltiplicarla dividerla o calcolare il resto attenzione la divisione fra due variabili o due valori in generale tipo intero restituisce un intero cioè sarebbe la divisione intera quindi se io divido 10 diviso 3 con questo simbolo il risultato sarà 3 non 3,3 periodico perché ho detto questo se a sinistra e a destra di questo operatore qui ci sono due valori di tipo intero e qui in questo caso sto supponendo che la variabile i l'ho definita tipo intero e poi questo 23 per dove è collocato nel codice sorgente viene interpretato come un valore intero perché sta al secondo membro di un'operazione che è definita per gli interi a questo punto se per esempio i era 50 50 aveva il valore 50 in quel momento 50 diviso 23 fa 2 il risultato di quell'operazione è 2 il resto dell'operazione lo potete prendere con quest'altro operatore che sarebbe il percentuale in C in C++ da il resto della divisione intera domande tutto chiaro me li metto gli occhiali vai cambio di segno perché l'intero c'ha il segno se era una variabile positiva diventa negativa se la variabile conteneva un valore negativo diventerà lo stesso in modulo ma positiva va bene allora su questo ci ritorniamo si fermiamoci un attimo qua anzi facciamo un paio di esercizi e poi concludiamo si vede allora supponiamo di fare un programma cioè facciamolo devo mettere più grande o è sufficiente va meglio allora ho il mio template int main andiamo a a fare un programmino per andare a vedere come si comportano i numeri le variabili se io esagero nel valore che do a queste variabili per esempio definisco una variabile anzi due i e j di tipo intero invece scrivo int i int j scrivo int i virgola j sulla stessa riga il compilatore non è così stupido come posso per esempio fare i uguale int underscore max vorrebbe dire vorrebbe dire che io do la variabile il valore massimo che può assumere essendo un intero però int max è una costante che non è definita qui in questo programma ma è definita in un file che l'ho chiamato prima che si chiama limits che il compilatore sa dove trovarlo quando una libreria un file con intestazioni di funzioni è scritto il nome del file dentro parentesi angolari vuol dire che state dicendo al compilatore è una direttiva che date al compilatore valla a trovare dove tu sai che è se invece fate una libreria voi ma lo vedremo sulla fine del corso allora la metterete fra doppi apici invece che fra parentesi angolari e dovrete mettere tutto il percorso indicando al compilatore dove andare a trovare la libreria che avete fatto voi perché se l'avete fatta voi lui non la sa dov'è come cartella se invece mettete come sto facendo io le parentesi angolari vuol dire che lui sa dov'è ho limits probabilmente ancora si chiama limits.h adesso facciamo una prova e vediamo queste librerie negli anni hanno cambiato il nome ma ne parleremo intanto mettiamo limits.h e poi mettiamo j uguale int min con questa scrittura possiamo far stampare in output il valore della i non ci va certo che ci va però dovevo fare l'errore per far vedere che mi ero dimenticato veramente lo stavo facendo apposta grazie 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 allora questa istruzione di stampa ne parleremo dell'input out faremo tutta una lezione su questo in pratica mi scrive in output il valore della variabile i poi gli faccio scrivere un po' di spazi e poi mi scrive in output il valore della variabile j li scrive scrivendo in asci utilizzando gli asci di quelle cifre ovviamente quindi tenete presente che i è una variabile per come l'ho definita 4 byte in complemento a 2 quindi farà una trasformazione questo operatore qui molto molto importante molto significativa allora adesso se io vado a compilare mi darà errore a me a questo punto è nudi che lo faccio risparmiamo tempo perché mi ha svelato adesso non mi darà errore salvo tutto dandogli un'estensione cpp lo metto in una qualche cartella chiamo questa per esempio l'ho chiamato prova limiti e adesso compilo eseguo chiedo scusa ha stampato in output il valore contenuto nella variabile i e il valore contenuto nella variabile j prima era int max l'altro era int min adesso modifichiamo il programma e facciamo i i conteneva il valore massimo adesso esageriamo gli diamo il valore che ci aveva prima più uno e a j che ci aveva il valore più basso possibile scusate scusate c'è una mano sola cioè strabordiamo questi limiti salviamo no prima di salvare riscriviamo tutto adesso adesso voi mi dovete dire secondo voi quando vado a compilare da errore il compilatore o no se da errore perché se non da errore mi dovete dire che cosa da il programma se lo lancio prima domanda da errore o no qualcuno dice di sì qualcuno dice di no errore di che bella domanda errore di che sarebbe un errore logico qualcuno dice e c'ha ragione perché io non posso aumentare il valore di un intero di uno certo che lo posso fare non è un errore logico in realtà no non c'è ragione lo posso fare quindi non è un errore logico è un errore considerando i limiti dell'hardware che sto utilizzando in quel momento io non è logico è un errore relativo all'hardware su cui sto facendo girare il mio programma se lo sto facendo girare su un computer più potente che usa non 4 byte per gli interi ma ne usa 8 quello non sarebbe un errore oddio no no intmax sarebbe comunque un errore chiedo scusa allora è un errore logico perché ho usato intmax bravo ma insomma compila o no compila e che cosa stampa la seconda istruzione di stampa quella alla riga 37 cosa stampa ma quanto siete bravi troppo bravi siete allora per tutti ricompiliamo e rieseguiamo la i diventa la j e la j diventa la i perché con l'aritmetica modulo 2 alla n se erano ok famolo un po' va e se mettiamo un sign ed in che prevedete no no ma intemina non ci sarà sicuro ah non ve l'ho detto ma i commenti in C si possono fare così quella riga di codice a destra di quel simbolo viene ignorata vabbè questo è un esercizio un po' stupido perché va tranquillamente oltre perché l'unsigned arriva su 4 giga per cui intmax non era un limite per l'unsigned se però ci mettiamo 4 giga quant'è 4 giga dite dite no down warning che Jay l'ho definita ma non l'utilizzo va bene queste cose vi divertite a farle e vedete che effetti hanno gli overflow questo sarebbe un overflow questa istruzione è un overflow questa viene detta underflow va bene facciamo un altro esercizio poi alle 2 e mezza iniziano le esercitazioni oggi dalle 2 e mezza alle 4 e mezza in aula 145 3 oggi mercoledì avete detto il mercoledì no? domani oggi è mercoledì domani non c'è lezione perché è festa giusto? e quindi oggi è l'ultimo giorno ma comunque saranno di mercoledì le esercitazioni di fondamenti informatiche mercoledì dalle 2 e mezza alle 4 e mezza 6 citazioni? no le esercitazioni non sono registrate c'è le esercitazioni di fisica non me l'avate detto che c'era fisica ma avevate detto che c'era comunque questo è un professionista che viene da fuori non è uno di qui quindi ha fatto già dei salti mortali perché l'abbiamo spostato al martedì al mercoledì cerchiamo di non farlo spostare di nuovo va bene allora un altro esercizio e poi ho detto dalle 2 e mezza alle 4 e mezza allora facciamo adesso un programma per avete carta e penna? provate a fare un programma che legge quattro interi per numero di giorni numero di ore numero di minuti numero di secondi per capire quanto dura un certo periodo poi legge altri quattro interi per capire quanto dura in giorni ore minuti e secondi un altro periodo faccia la somma dei due periodi per capire qual è la durata della somma dei due periodi dovete già sapete farlo perché avete tutte le informazioni per farlo e quindi ci proviamo cioè ci provate e io ci provo con voi ci provo io ce l'ho già scritto va bene direi che comunque questa è un'esecitazione per cui grazie a tutti